Cari cinghialotti, fratacchioni, suini geneticamente pure, all'ora siete pronti? Sta tornando, lo sentite di nuovo questo profumo di amuchina nell'aria, questo odore di rockdown, o Market Cabascio ha già messo i lieviti in offerta? E voi? L'avete già preparata la playlist delle canzoni che canterete sui balconi? Che avete scelto? Sono curioso. Ah, ho voglia di ballare a capocchia, in spiaggia? Non vedo l'ora di rivedere le vostre belle dirette sui social, eh? Che fate? Mi raccontate le vostre vacanze estive, sì? I tuffi dalle barche, le foto sott'acqua, come avete fatto a prendere il bonus champagne? Il bonus? Voi tra poco prenderete pure il bonus castagne, e se sì, mi fortunato mi chiamo pure un bonus palle di Natale. Mi dispiace, mi voglio ingerla, che non torneranno a scuola, non gira un gruppo o banca che in rotella me l'aveste voluto far fuori. Per il resto, i cani, ve li siete procurati, sì? E cartucce per stampante non vi scordate, la farina sotto matanazza. Godetevi questi ultimi momenti di movita, movita, gli ultimi giorni, la sera leoni, e la mattina dopo tamponi. Andi in stocco, mi aspetta, è chi si muove.